Stenta a decollare la società consortile comunità sensibile. Sono trascorsi quasi otto mesi dalla nomina politica del consiglio di amministrazione che sopravvive solo alimentato da litigi interni ma senza dare una chiara svolta alla costituzione effettiva della consortile ancora senza un direttore e il necessario personale addetto. Punta in dito sull'approssimativa gestione il capogruppo consigliere di insieme per Scafati Michele Russo. Ricordo la nascita della società consortile comunità sensibile molto travagliata tra i comuni dell'agro e comunque all'epoca ci furono diverse sollecitazioni anche da parte dell'amministrazione che pretendeva di far passare una delibera senza il numero sufficiente di voti poi si dovette ritornare in consiglio e ci veniva sempre obiettato che c'era necessità urgenza, urgenza assoluta di partire. Ecco dopo diversi mesi dalla costituzione di questa società non vi è traccia di attività, non vi è alcuna attività operativa ed è ancora in funzione il sistema della convenzione con il comune capofila. Stentiamo, diciamo che non abbiamo contezza del perché questa società non parta e perché pur avendo nominato i vertici, avendo nominato delle figure di riferimento non si sia dato concreto inizio alle attività affidate alla stessa comunità sensibile. Ecco non vorremmo che ci siano difficoltà legate ai debiti pregressi o ci siano difficoltà di intesa tra i sindaci che non vengono esplicitati in maniera chiara. Chiediamo quindi che innanzitutto chiarezza e trasparenza che sia spiegato sia a noi rappresentanti istituzionali ma ai cittadini perché non decollano le attività delle quali il territorio ha bisogno e che evidentemente non possono essere ulteriormente posticipate. Sicuramente nei prossimi giorni assumeremo anche delle iniziative al riguardo per comprendere questa fase di stallo a cosa sia dovuta.